la vita è una missione di padre livio edizioni su garco dunque l'ultima volta noi nel nostro incontro ci siamo posti questo interrogativo cioè a cosa serve la vita a cosa serve la vita perché noi ci troviamo ad avere in mano questo meraviglioso dono della vita del quale non potrebbe esserci un atto maggiore perché è la base di tutti gli altri doni compreso il dono della fede quindi il fatto di esistere un grande dono e bisogna prendere coscienza di questo grande dono e anche di questa grande responsabilità che abbiamo insomma è come se immaginate che uno vi mette in mano una somma enorme no uno dice ho questa somma enorme adesso cosa ne faccio insomma è pure che i lati te la rubano hai paura di tante hai tante paure no però nel medesimo tempo non puoi andare a seppellire questo dono perché se lo seppellisci non ne ricavi niente così la vita è un grandissimo dono che è una grandissima responsabilità e come ha detto Gesù sono i talenti che Dio ti ha messo in mano la prima cosa che devi fare è prendere coscienza che la vita è un dono prendere coscienza che la vita è una responsabilità che devi gestire che devi investire che li fa fruttificare che deve portare al termine della portare al porto di luce che verso cui la tua navicella è diretta e nel medesimo tempo devi anche ringraziare chi ti ha fatto questa vita e chi ti ha fatto questo dono e devi chiederti a cosa serve e noi cari amici la risposta molto semplice è questa questo grande dono della vita serve per conoscere Dio prima di tutto da quale la tua vita viene per conoscere colui che è la fonte della tua felicità perché tu hai bisogno di qualcosa che qui sulla terra non c'è cioè non c'è una felicità eterna piena duratura qui sulla terra Dio è con la fonte di felicità verso la quale tu sei diretto e siccome ognuno di noi è unico siccome uno di noi ha un suo compito da svolgere nel progetto divino della creazione anche tu hai il tuo compito da svolgere nella vita cioè conoscere Dio amare Dio stringe con lui l'intima amicizia e poi servirlo lavorare nella vigna del Signore e quello lo si può fare in tantissimi modi cari amici e come diciamo così vorrei anche rispondere a qualche vostro intervento che avete fatto via Facebook sono anche preziosi molto preziosi i vostri interventi su Facebook così possono anche posso anche in qualche modo sintonizzare la catechesi sui vostri quesiti e prima di concludere questa parte introduttore vorrei citare due o tre interventi per esempio Annalisa ha detto sì io mi chiedo spesso cosa Dio voglia da me solo che sono una povera infelice ecco io vorrei siccome vorrei dire che siamo tutti dei poveri infelici cioè la bellezza della vita è proprio questa che uno sia ricco sia povero sia intelligente uno sia intelligente sia abbia la buona salute o non abbia la buona salute però tutti quanti possiamo cooperare a raggiungere il fine della vita cioè cara Annalisa ricordi che sei una figlia di Dio sei immagine di Dio Dio ti ama e puoi cooperare con Dio e come? Prima di tutto con te stessa essendo tu una luce che illumina e poi proprio nel tuo ambito di vita nel tuo ambito di vita tu devi essere una persona che porta il bene porta la pace porta l'amore e questo ti assicuro che prova a far questo ti assicuro che non direi più che sei una povera infelice perché ti rendi conto che invece anche noi che siamo dei piccoli perché poi anche i grandi uomini sono dei poveri uomini ricordalo bene tutti possiamo invece fare qualcosa di straordinario perché Dio ci usa come suoi strumenti ci usa nel senso buono della parola cioè ci fa cooperare come è fatto con la fanciulla di Nazare che è una povera ragazza alla fine dei conti e una risposta un po' simile vorrei dare anche un'altra ragazzina che si chiama Moira la quale ha scritto siccome sono una disabile è già tanto che abbia la salute e risolvi i miei problemi ecco Moira guarda guarda che che intanto accettando accettando anche la tua disabilità fai qualcosa di grande insomma perché di fronte a una disabilità si possono avere due atteggiamenti uno che è distruttivo in fondo è quello di arrabbiarsi con Dio l'altro invece è quello di dire io ti ringrazio per il dono della vita ho questa disabilità ma la metterò al tuo servizio e come fai a mettere la tua disabilità al servizio di Dio? la offri? la offri e comunque anche con la disabilità puoi diffondere la tua bontà il tuo sorriso la tua gioia il bene ci sono dei diari in questi ultimi tempi di ragazze che hanno avuto diciamo così dalle prove particolarmente particolarmente pesanti insomma non solo una disabilità ma hanno avuto anche diciamo così proprio delle malattie incurabili hanno scritto dei diari che sono stati pubblicati in questi ultimi anni che hanno avuto anche fra l'altro un vasto pubblico che ti fa vedere le meraviglie che Dio compie in un'anima in un'anima di una persona disabile di una persona che soffre di una persona che sa che deve morire gli fa scoprire delle cose che non avrebbero mai scoperto e attraverso la loro testimonianza hanno potuto fare del bene che neanche un prete per tutta la sua vita potrebbe fare questo dunque tenetelo ben presente nessuno si ritenga inutile perché è con le persone inutili che Dio vince le sue grandi battaglie poi anche una mamma vuoi portare anche la testimonianza di una mamma perché in fondo anche gli adulti diciamo così sono benvenuti alla catecheggia giovanile proprio perché diciamo hanno i figli da educare una mamma giustamente ha visto proprio del suo essere moglie del suo essere mamma nella vita quotidiana la via per aiutare Dio a portare a termine il suo disegno di amore che è appunto il disegno della creazione e della redenzione che ha come fine ultimo direttamente partecipi della sua gloria della sua gioia e del suo amore delle creature capaci di Dio come siamo noi esseri umani Francesca questa mamma scrive sì Padre Livio agli occhi del Signore abbiamo un ruolo il mio è quello di mamma moglie cittadina visto che faccio parte di una società e come tale cerco di dare un buon esempio le opere del Signore sono meravigliose perché lui agisce in maniera straordinaria per portare a termine un disegno divino e vi assicuro cari amici che il matrimonio è un disegno divino anche il matrimonio è il primo disegno divino perché dopo aver creato l'uomo e la donna Dio disse dopo aver creato l'uomo e la donna maschio e femmina li creò a immagini Dio li creò disse e l'uomo e la donna lasceranno il loro padre la loro madre eccetera per essere una sola carne quindi una sola vita un solo cammino un solo progetto di vita questo è il primo disegno di Dio che Dio ha messo davanti a noi quello della famiglia e quindi come dice Francesca in parole semplici per esempio Dio ha creato la famiglia con un bene prezioso e purtroppo molti non gli attribuiscono un grande valore perché danno la priorità a cose materiali per fortuna che esistono le persone di fede che interpretano in maniera eccellente la volontà del Signore quindi a termine di questa prima diciamo così introduzione ragazzi vorrei dirvi abbiate autostima insomma ognuno di noi ha un grande compito nella vita gli viene assegnato da Dio viene chiamato da Dio come cooperatore come collaboratore impostate la vita come risposta a Dio come risposta al suo amore per fare quello che lui vi chiamerà a fare durante tutto il corso della vita non giocate non impegnate non giocate la vita sul denaro sull'onore sulla gloria su cose che ti si sciogliono fra le mani svaniscono e comunque anche se le realizzi anche se tu diventassi una persona importante potente ricca famosa eccetera 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 un un VIP vero important person se tu diventi anche uno di questi non è che tu sarai felice non sarai felice sarai come si dice molto probabilmente sarai un morto che cammina come sono tanti morti che camminano nella nostra società altolocata adesso amici entriamo invece nel vivo della catechesi di questo venerdì che vorrei appunto focalizzare su un grande dono che Dio ci ha dato e che comunque piace molto ai giovani che è il dono della libertà perché il dono della libertà è sicuramente quello che voi anche quello che avete scritto su Facebook in questi venerdì scorsi è quello che a quanto pare apprezzate di più ma questo è normale insomma anche perché il giovane man mano diciamo così diventa grande prende ha il senso della responsabilità capisce che è libero vuole anche un po' emanciparsi dai genitori insomma vuole spiccare il volo dopo che un uccellino è uscito dal nido comincia a fare i primi i primi svolazzi e se poi qualche gatto non lo prende grazie a Dio riprenderà a volare in alto così fate voi ragazzi giustamente quindi mettete i doni della libertà molte volte quasi sempre anzi in cima ai doni più grandi che abbiamo che tutti gli uomini hanno ricevuto cioè tutti noi abbiamo dei grandissimi doni che gli animali non hanno forse è bene ricordarceli perché viviamo in un tipo di società in cui oggi c'è c'è il il tiro diciamo così al bersaglio contro l'uomo cioè c'è la gara a chi ne dicevi tutti i colori contro l'uomo si cerca di denigrarlo addirittura si dice che è peggio degli animali eccetera eccetera per carità in molte cose è anche vero perché però ricordiamoci ricordiamoci quello che diceva Piccolo della Mirandola e chi è Piccolo della Mirandola ragazzi era un grande intellettuale del 1500 Piccolo della Mirandola diceva che l'uomo può elevarsi all'altezza degli angeli e può precipitare al di sotto dalle bestie quindi questo è l'uomo che ha dei doni meravigliosi e ricordiamo che li hanno tutti questi doni quasi tutti a meno che uno non abbia delle disabilità gravi cioè il don dell'intelligenza il don della coscienza il dono dell'amore e il dono della libertà questi doni caratterizzano proprio la natura umana e ci fanno capire in quale grande dignità Dio ci ha creato però a questi doni il dono della libertà è particolare perché Dio ha avuto coraggio cioè Dio ha avuto un grande coraggio nel crearci liberi e c'è niente da fare insomma è arrischiato cioè Dio creandoci liberi arrischiato perché il dono della libertà che ci ha dato è talmente radicale per cui noi possiamo anche usare questo dono della libertà per distruggere ciò che Dio ha creato cioè per distruggere noi stessi o comunque per negare Dio per combattere Dio per far del male insomma potremmo usare il dono della libertà invece che per costruire potremmo usarlo anche per distruggere e i genitori ne sanno qualcosa perché i genitori hanno cooperato con Dio nel mettere al mondo un figlio cioè quando un bambino viene al mondo quel bambino è diciamo così il frutto di un duplice amore l'amore di Dio che dal nulla trae un'anima spirituale immortale e l'amore dei genitori che contribuiscono con il loro amore a donare un corpo a quest'anima e quando un bambino viene al mondo per i genitori è una grande gioia no? Anche perché insomma siccome uno che è papà e uno che è mamma lo è per sempre cioè voglio dire quel bambino sarà tuo figlio per sempre insomma quindi non è una cosa da poco non è una responsabilità da poco pensate che anche anche oggi la Madonna in paradiso chiama Gesù suo figlio figlio mio pensate come come diciamo è profonda questa nostra cooperazione straordinaria all'opera della creazione i miei genitori sanno benissimo che questo figlio man mano che cresce man mano che è libero può essere la loro gioia o la loro disperazione chi ha visto quante mamme soddisfatte consolate perché i figli sono dei bravi ragazzi che ha visto tante mamme disperate perché i loro figli hanno fallito la vita nella droga nell'alcol in tante cose sbagliate molte volte anche dopo che hanno preso la via giusta del matrimonio si sono perse anche lungo quella via e quindi portano una spina quello che i genitori provano nell'avere i figli che prendono la via giusta o la via sbagliata lo prova anche Dio quindi quando si mette a modo una creatura si rischia e perché si rischia perché siamo liberi da parte Dio poteva crearci senza la libertà no perché ha già creato gli animali senza la libertà che hanno distinto bastano quelli Dio ci ha creato i liberi perché lui ci ha creati perché potessimo conoscerlo e amarlo e condividere la sua gioia in paradiso ma capite bene cari ragazzi che soltanto se siamo liberi possiamo amarlo cioè tu non puoi costringere una persona ad amarti ma non so poter anche se gli dai dei milioni al massimo farà finta di amarti ma non è che non è che si innamorerà di te perché gli dai dei milioni non puoi costringere nessuno ad amarti non c'è niente da fare e Dio ha voluto correre questo rischio ha corso il rischio di darti la libertà come dono a doppio taglio una lama a doppio taglio con la quale tu puoi dire sì a Dio puoi come dire amare Dio puoi servire Dio puoi anche ignorarlo essere indifferente buttarlo fuori dalla tua vita e così questo rischio l'accetta fino in fondo fino in fondo per cui se una persona muore col no irrevocabile a Dio quella persona resterà in questo no irrevocabile per tutta l'eternità questo è l'inferno cioè l'inferno dobbiamo uscire fuori un po' dagli schemi con cui noi lo rappresentiamo no come se fosse quel posto tremendo dove Dio ci caccia l'inferno è semplicemente molto semplicemente il nostro no a Dio che ti ama no all'amore di Dio questo è l'inferno perché è inferno perché tu dicendo no a Dio poi sei infelice eternamente perché tu sei stato creato il tuo DNA la tua struttura è quella di aver bisogno di un amore infinito questa è la struttura dell'uomo cioè il cuore dell'uomo vuole un amore eterno e infinito non c'è niente da fare questo è vero per tutta la vita da quando il bambino comincia così a muovere a muovere comincia a prendere coscienza del mondo cerca l'amore fino alla fine della vita l'uomo cerca l'amore questo è il marchio di fabbrica il marchio di fabbrica cioè Dio che è amore ha creato delle creature che hanno bisogno di un amore eterno e infinito e dicendo no a Dio perché hanno corso dietro a amori passeggeri hanno vissuto non il rapporto di amore ma il vagabondaggio fra i falsi amori uno arriva alla fine della vita che ha ha chiuso il cuore all'amore eterno e rimane in eterno senza senza questo amore cioè chiuso in se stesso ha fatto di se stesso l'oggetto della sua adorazione quindi nella sua solitudine la solitudine del cuore è è il vero inferno quello la privazione di Dio la privazione di Dio che tu ti sei dato quindi Dio ha giocato fino in fondo cioè ci ha creati liberi perché noi potessimo amarlo Dio non costringe mai ad amarti Dio ti propone di amarti Dio chiede la tua amicizia Dio bussa la porta nel tuo cuore no? e tu vedi come Gesù si comporta no? perché Dio poi a noi è venuto incontro proprio nella passione di Gesù Cristo no? che è amore prodigo senza confini che è andato fino alla croce pur di strapparci dall'ingannatore dal menzognero dall'omicida fino al principio che è Satana e lui ha detto non c'è amore più grande di quello di dare la vita per i miei amici voi siete miei amici quindi Dio è come dice Caterina da Siena è pazzo d'amore per le sue creature ma rischia 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 di dei no rischia dei no e questa è la sofferenza divina cioè il nostro no a Dio cioè il nostro cuore insensibile il nostro cuore di pietra la nostra indifferenza il nostro seguire i falsi amori il nostro scegliere Satana al posto di Dio è il dolore di Dio ma pur da avere il nostro amore liberamente Dio ha corso il rischio di crearci liberi cioè capaci di scegliere per Dio o contro Dio quindi mettiamo fuoco che cos'è questa libertà cari amici è questa possibilità che noi abbiamo di accogliere Dio o di rifiutare Dio nel corso della nostra vita la vita è una missione di Padre Livio edizioni su Garco la vita è una missione la vita è una missione di Dio